Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video. Non state aver letto più episodio di Jim, ormai un giorno è già saltato, voi vi state anche chiedendo perché? Eccoli perché ragazzi, eccolo qua. Sto ristrutturando tutto la Home Gym. Sto spostando tutti gli attrezzi anche perché arriveranno nuove cose ragazzi, quindi devo fare più spazio. Come potete vedere qui una volta c'è un armadio ed è sparito, non lo non c'è più. Quindi ragazzi assisterete a questo diciamo il ristrutturamento della Home Gym e poi ragazzi ci rivedremo lunedì con questa serie. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti Pagano, ho deciso dove mettere il posto Ora bisogna vedere dove mettere la latmashine Adesso vediamola Ora bisogna vedere dove mettere il posto Grazie a tutti Grazie a tutti E vi farò vedere il risultato finale Siete pronti? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti